Neanche due settimane alla data fatidica in cui si decideranno le sorti di Palermo, ma durante questa campagna elettorale cosa è stato messo in evidenza? Che i palermitani avevano bisogno di sentire una voce nuova, che non parlasse politichese, che li difendesse davvero, che fosse convinto della loro grandezza e della loro dignità e che avesse un sogno da realizzare concretamente per farli di ritornare ad essere una capitale grande e importante al Mediterraneo. Cosa manca a Palermo per i palermitani? Io credo di base, anche se può sembrare un discorso astratto, manca intanto che loro sappiano di essere grandi, a loro dignità. Per questo anche abbiamo invitato oggi pomeriggio alle 5, fino aprile, l'autore di Terroni e di tanti libri di successo, a dirci come hanno fatto dopo il 1860 a farci credere di essere figli di un Dio minore, di essere incivili, di essere persone incapaci. Quindi intanto se riscoprono questo possono far leva sulle loro capacità per costruire una Palermo diversa. In questi ultimi giorni di campagne elettorali che tipo di azioni metterà in campo? Cercherò di incontrare il più possibile i cittadini e poi cercherò di fornire loro elementi per riflettere. In particolare per esempio il 5 giugno faremo un grande convegno per spiegare le soluzioni urbanistiche per trasformare Palermo e per risolvere in modo radicale i problemi del traffico. Invece una campagna elettorale è segnata sicuramente dal non appoggio di alcun partito. Quali difficoltà in più? Le difficoltà? La mancanza assoluta di risorse. Anche per farci pubblicità ci siamo autotassati. È chiaro che questo. Però anche la grande gioia di essere gli unici siciliani veramente liberi. Noi non rispondiamo a nessuna segreteria né di Roma né di Milano né di Genova e quindi abbiamo potuto fare scelte anche per esempio con gli assessori basandoci sulla qualità del lavoro che vogliamo realizzare. Se dovesse adattare un termine, un solo termine a questa campagna elettorale? Un solo termine? Per noi è stata esaltante. Ok, esaltante, sì, direi questo. Nei confronti c'è stata un po' di tensione, ma questo riguarda gli altri, non me.